e ci ballerà un brano, ma parliamo di Giada Bartoccioni! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! 16 anni, complimenti! Grazie! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie mille! Grazie mille! Grazie per la visione!